Quinto giorno di ricerca di Giulia Cecchettina e Filippo Turetta, ecco l'immagine della punto nera del ragazzo in molta rata dai Targa System di Zero Branco la notte tra sabato e domenica in zona mobilitazione di vigili del fuoco e forze dell'ordine. Le parole della sorella di Giulia Elena speravamo ricomparisse oggi Filippo l'odio non dura per sempre il dolore di papagino un giorno di festa che si è trasformato in un giorno di dolore doveva essere un giorno di festa oggi al Dipartimento di Ingegneria di Padova ma la laurea di Giulia non c'è stata le voci degli studenti le parole dei professori Giulia ti aspettiamo. L'angoscia per i ragazzi scomparsi l'appello parte anche dal sindaco di Treviso Mario Conte facciamo rete contro i disagi tra giovani e solitudine tra i trevigiani sconcerto e preoccupazione. L'operaia di 26 anni morta sul lavoro a Pieve di Soligo la procura ha deciso di non effettuare l'esame utoptico sul corpo di Anila nelle prossime ore nulla osca alla sepoltura. Samantha Renone aveva 16 anni nell'aprile dell'anno scorso fu travolta uccisa da un'auto al conducente la patente è stata sospesa per 10 mesi il dolore di mamma Diana lui tornerà a guidare la nostra vita è finita per sempre. Smantellata dalla finanza di Padova un'organizzazione internazionale di narcotrafficanti il capo risiedeva a Ponte di Piave. Sciopero si preannuncia una giornata difficile domani dalla scuola alla sanità saranno ore di stop un appello al buon senso arriva da Cassugana. Torna a Natale incantato a Treviso tra novità e tradizione oggi la presentazione con il sindaco Conte che anticipa l'accensione dell'albero in piazza previsto un boom di visitatori. Buonasera ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali in primo piano ancora la scomparsa dei due giovani ex fidanzati Giulia Cecchettine e Filippo Turetta perché da oggi pomeriggio le ricerche si sono concentrate in provincia di Treviso nella zona di Zero Branco dove l'auto del giovane è stata registrata dal sistema Targa System mentre transitava lungo la Noalese nella notte tra sabato e domenica. La notte della scomparsa punto ed il lasso di tempo tra le rilevazioni in entrata nel territorio comunale e quello in uscita ha fatto ipotizzare agli inquirenti una sosta sospetta proprio a Zero Branco. Per questo i carabinieri assieme ai vigili del fuoco oggi pomeriggio si sono concentrati con le ricerche proprio in questa zona e nel servizio vi mostriamo in esclusiva le immagini dell'auto del giovane ripresa appunto dalle telecamere mentre passa a Zero Branco. Mezzanotte e 43 minuti, Zero Branco. Eccola in questa immagine che Media Nord-Est può mostrarvi in esclusiva l'auto guidata da Filippo Turetta, la grande punto nera targata FA015YE che nella notte tra sabato e domenica è stata registrata dalle telecamere di videosorveglianza. La prima volta che si vede uno scatto delle telecamere dislocate lungo le nostre strade. Uno dei frame che certificano i movimenti dell'auto la notte della scomparsa. Ha solo poco più di un'ora di distanza dal passaggio nella zona industriale di Fossò registrato alle 23.30, poco distante da dove sono state ritrovate le chiazze di sangue la cui provenienza non è ancora stata accertata. È buio, quindi non si riesce a capire chiaramente quante persone ci siano all'interno dell'auto, se una o due. Ma proprio il passaggio in questa zona, dove sembra essersi fermata più a lungo, oggi si sono concentrate le ricerche di carabinieri e vigili del fuoco. Proprio oggi, nel giorno in cui Giulia si sarebbe dovuta laureare e poi festeggiare con la sua famiglia e gli amici. Noi speriamo sempre che ritorni e... boh, cioè non neanche tanto per la laurea, più ormai, nel senso a me non importa della laurea, mi basta vederla. Sul cancello dell'abitazione in via Aldomoro a Vigonovo, Elena ha voluto ugualmente appendere i fiocchi rossi. Perché questa è la giornata di Giulia, quella che lei attendeva da tempo e che oggi, come ha detto il papà, andava festeggiata. Ma ogni giorno che passa è sempre peggio, anche le forze sento che vengono meno, perché io riposo ma mi sveglio sempre più stanco del giorno precedente. Mi sono svegliato stamattina ed ero distrutto perché dico io non dovrei essere qui davanti a voi, dovrei essere lì che festeggio assieme a mia figlia. Questo non può essere nella vita di tutti noi un momento di felicità, trasformarsi in un momento di dolore. Non è concepibile, rinnoviamo l'appello, fate in modo che Filippo torni, magari raggiungendolo con qualche messaggio, qualche messaggio anche di distensione. Come abbiamo detto prima, nessuno vuole fare processi adesso, non è il momento dei processi, vogliamo solo riabbracciare questi due ragazzi. Due famiglie, quella di Giulia e di Filippo, che stanno vivendo ore di angoscia, ma nonostante tutto Elena non ha rabbia, chiede solo di poter riabbracciare la sua Giulia. Io non penso che lui fosse una persona cattiva e nel senso, se ha sbagliato, penso che possa anche rimediare il suo errore. Io spero che ci stiamo sbagliando tutti e che non sia come pensiamo. L'odio non è per sempre comunque e io sono convinta che odiare non porti da nessuna parte. Io però ho un'unica priorità, che è sapere dove è mia sorella, tutto il resto non importa. Qualsiasi cosa che sia successa o che succederà non è la mia priorità. Io più passo il tempo più non so che cosa pensare di questa situazione, quindi io sento solo tanto la sua mancanza e il dolore di non sapere dove sia e se sta bene. Giulia è stata trattenuta contro la sua volontà, questo è certo, a dirlo l'avvocato della famiglia Cecchettina. Confidiamo, ma in qualche modo pretendiamo anche un risultato a breve. Un risultato che potrebbe arrivare nelle prossime ore. Le ricerche si stanno stringendo sempre di più a determinate zone. Controlli a tappeto a zero branco nel Trevigiano, dove l'auto di Filippo è passata nella notte tra sabato e domenica. Ma si guarda anche oltre i confine. L'ambasciata italiana a Vienna ha inviato un'email a sei consoli onorari perché prestino la massima attenzione a qualsiasi particolare indicazione provenienti dal territorio dove operano. Un appello lanciato perché l'auto potrebbe esservi transitata tra domenica e lunedì. Zone che Filippo, appassionato di trekking e di prove di orientamento senza mappe, sembrerebbe conoscere bene. Di qui un appello dell'avvocato di famiglia a chi la strada la vive ogni giorno. I punti dove più probabilmente può passare o fermarsi un'autovettura sono quelli, le persone che possono avere più probabilità di individuare un'autovettura sono quelle che vivono sulla strada e lavorano sulla strada come ad esempio i camionisti ma anche i tassisti eccetera. Nuovi controlli poi ancora nelle zone della rivera del Brenta dopo un briefing in mattinata tra vigili del fuoco e carabinieri a Dolo per coordinare le operazioni. La città metropolitana di Venezia ha messo a disposizione dall'alba 60 volontari di protezione civile. Oltre che con l'utilizzo dell'elicottero e lungo il fiume Brenta, le ricerche dei vigili del fuoco si sono concentrate con l'unità cinofila anche nelle campagne limitrofe. Una segnalazione a fiasso d'artico con esito negativo, mentre i carabinieri avrebbero trovato a Stigliano di Santa Maria di Sala alcuni brandelli di un vestito sull'argine del fiume Muson che hanno poi repertato. Una cosa però è certa, ribadisce il legale della famiglia Cecchettin. La convinzione della famiglia è quella che lei sia trattenuta contro la sua volontà, questo è evidente perché dal primo momento in cui il babbo ha denunciato la scomparsa ha detto che lei non si sarebbe mai allontanata volontariamente. Su questo voglio essere categorico, lei non può essere scappata da sola per fare una fuga di qualsiasi tipo, la ragazza è fuori casa contro la sua volontà. Ma io sono ancora fiducioso che si possa risolvere bene la vicenda, una spedanza certamente non la perdiamo nella consapevolezza che è una situazione comunque molto preoccupante. E l'altra famiglia in grande apprensione è quella di Filippo Turetta, oggi i genitori sono stati dai carabinieri a Teolo. Ragazzi se ci vedete tornate, Filippo, amore siamo qua, ti aspettiamo, qualsiasi cosa sia successa, fatevi sentire, venite a casa, qualsiasi cosa si risolve. Nicola Turetta all'uscita della casarma dei carabinieri di Teolo ripete l'appello accorato a Filippo e Giulia. Il percorso in auto del figlio è ancora poco chiaro, Filippo con sé aveva con tanti le zone del Bellunese, del Pordenonese, dice il papà, le conosceva per la sua passione del trekking. Purtroppo ancora non abbiamo nessuna novità, abbiamo sempre queste speranze che ci lasciano comunque ancora viva di trovarli, perché però anche queste segnalazioni non si abbia capito quali siano quelle più reali insomma, però sembra che la macchina comunque è in movimento. La macchina è stata vista in più punti, ma non ci sono conferme degli ultimi avvistamenti, neppure quelli verso il confine con l'Austria. Però le ricerche continuano, c'è la speranza che la cosa si risolva, che i ragazzi soprattutto tornino a casa, stiano bene. Sulla questione della laurea e la possibilità che Filippo fosse preoccupato per questo traguardo di Giulia, papà Nicola risponde così. Lui era orgoglioso di lei che si laureasse, quindi questo aspetto non lo so, lui era ancora, gli mancavano ancora tre esami, quindi sarebbe andato alla sessione di marzo. Filippo sembrava tranquillo, i genitori sono preoccupati per la descrizione fatta finora del figlio e ribadiscono che il ragazzo voleva molto bene a Giulia. Questa cosa che è uscita sembra che fosse quasi stalking, so che la Giulia ha continuato a uscire, usciva tranquillamente con lui, non è che fosse ansiosa o sapesse che andava, passava del pomeriggio con lui, andava al McDonald's e quindi era tranquilla, che poi lui avesse forse la speranza di tornare con lei, sì perché dopo era già successo anche che si erano lasciati anche nella precedente, ancora a marzo la prima volta, poi insomma poi si frequentavano comunque in tutti questi due o tre anni, cioè la loro relazione che io sappia insomma non è toccata neanche mai con neanche un cappello. E doveva essere un giorno di festa quello di oggi al Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Padova, ma la laurea di Giulia non c'è stata, le parole dei professori. Un pensiero particolare va a Giulia, che è scomparsa da alcuni giorni e che avrebbe dovuto oggi sostenere l'esame di laurea. La comunità dei docenti e del personale del Dipartimento si unisce a quella degli studenti nell'augurio di avere presto lei tra i nostri neolaureati e di vedere anche Filippo raggiungere il traguardo della laurea. L'applauso dell'aula magna del Dipartimento di Ingegneria per Giulia, che oggi doveva essere lì a festeggiare il suo traguardo. La speranza che Giulia Cecchettin si presentasse al Dipartimento di Via Radenigo è rimasta per tutta la giornata. Sì, l'ho conosciuto, io ho fatto l'esame, hanno fatto l'esame con me di fondamenti e di elettronica, quindi sono ragazzi che hanno studiato qui con noi, che li abbiamo formati, li abbiamo fatti crescere e quindi anche è il nostro voglio e orgoglio di laurearli. Giulia la stiamo aspettando. Se uno non consegna la tesi può essere anche un messaggio che gli manca qualcosa da finalizzare, perché si vuole laureare tra qualche tempo, c'è una sessione di laurea anche a novembre, quindi non è scaduto niente. Gaudenzio Meneghesso, direttore del Dipartimento, era stato professore sia di Giulia che di Filippo. Posso ricordare nell'ambito di quello che può essere ricordo di un professore universitario che ha 150 studenti in aula, che fa degli esami e a volte c'è un'interazione più stretta con qualche studente che viene a parlare, e a volte meno. Sicuramente il giudizio è positivo, avendo superato l'esame i due ragazzi hanno fatto sicuramente un buon risultato. Silvia Todro, sorellatrice di Giulia, evita le telecamere, nessuna parola, ma la storia della scomparsa dei due ragazzi ha scosso tutto il Dipartimento di Ingegneria. Me li ricordo che erano entrambi al mio corso, però non me li ricordo. Il pensiero per questa ragazza che oggi avrebbe dovuto laurearsi invece non è qui. Ci ha colpito tutti, quindi siamo tutti un po' scossi per questa notizia. Oggi i laureandi hanno rivolto un pensiero alla giovane. Mi dispiace tantissimo per questa situazione, spero che si ritrovino tutti e due molto presto. Conoscevi Giulia? Non personalmente, di vista, l'ho vista in aula. Che effetto ti fa? Oggi era prevista? Un po' di tristezza, che speravo che tornasse, purtroppo non è successo, quindi non so che altro dire. Cosa può essere successo? Magari un po' di tensione, di preoccupazione per la laurea? Può essere, però non lo so, minima idea. Spero niente di grave e che si possa risolvere tutto. Gli studenti sono scossi e anche chi non si deve laureare, ma conosceva Giulia, di vista, riesce a stento a trattenere la commozione. Solo di vista veramente non è un bel momento. Io solo quando li vedevi insieme come ti sembravano? Una coppia normalissima, cioè nel senso io non penso niente su questa situazione. E torniamo ora a Zero Branco. Dicevamo in apertura che proprio oggi, da oggi pomeriggio, si sono concentrate le ricerche nell'area appunto del comune dove la vettura è transitata per due volte e dove i tempi fanno ipotizzare una sosta sospetta. Sentiamo le interviste realizzate oggi dalla nostra Anna De Roberto ai Vigili del Fuoco e al sindaco Durighetto. Qual è il piano ora di movimento? Come state coordinando le forze? Il piano è un piano che si è immobilita a livello regionale e che quindi siamo in diverse province, dalla provincia di Venezia, provincia di Treviso dove è passata la macchina, poi la provincia di Pordenone. Quindi c'è un piano coordinato fra tutte le forze dell'ordine e noi che stiamo effettuando le ricerche per individuare ogni elemento utile alle ricerche di questi due ragazzi che al momento risultano scomparsi. Quali sono le aree più di interesse per i vostri sommozzatori sulla base dei dati che avete? Ma al momento non ci sono aree particolari, quindi ora stiamo facendo poi anche del solvolo, perché la macchina poi ha attraversato anche la zona del Piave, quelle zone lì, quindi faremo una ricognizione aerea delle zone per vedere un attimino, ma al momento non ci sono di particolari riferimenti dove fare immergere con particolari indizi. Il punto qui a zero branco perché è proprio qui? Perché qui è il primo punto di passaggio sulla provincia di Treviso, perché la macchina arrivava da zona di Scorsè, quindi il primo punto si parte di qua e si va poi in avanti. Noi siamo qua come tutti i cittadini, speranzosi che l'epilogo possa essere positivo. Poi è chiaro che vedere l'elicottero ieri e oggi, il camion dei vigili del fuoco, le macchine dei vari corpi, mette tutti un po' da una parte in agitazione, però dall'altra anche ci fa capire dell'importanza di questa ricerca in atto e quindi appunto tutti quanti speriamo che l'epilogo possa essere il più positivo possibile. Come sono posizionate le vostre telecamere? Noi abbiamo 60 punti di controllo di telecamere, la maggior parte sono relativi alle zone urbane, quindi le zone centrali del paese e alcune lungo gli assi primari e appunto nelle telecamere lungo la strada noalese sono stati rilevati i passaggi anche della famosa Punto Nera. L'angoscia per i ragazzi scomparsi, un appello parte dal sindaco di Treviso, Mario Conte. Innanzitutto continuiamo a sperare in un lieto fine di questa vicenda e ci tengo a portare la mia vicinanza personale di tutta la comunità trevigiana, alle famiglie, agli amici che stanno vivendo davvero giornate di grande angoscia. Le ricerche stanno continuando e ringrazio i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, protezione civile, polizie locali, insomma tutte le istituzioni che si stanno muovendo. L'appello che faccio, ma non soltanto ai due ragazzi, ma un po' a tutte le persone che stanno vivendo magari dei momenti di particolare stress o preoccupazione è quello di non sentirsi soli e pensare che ad ogni problema c'è una soluzione e che insieme si può trovare il perché a tutto. Quindi l'appello intanto è quello di rimettersi in contatto e la speranza è quello di ritrovarli al più presto e poi a tutti coloro che invece stanno vivendo, perché nella vita può capitare un periodo particolarmente difficile di appoggiarsi alle istituzioni perché ci siamo e perché non vogliamo lasciare indietro nessuno. Ed angoscia e incredulità, treviso per la vicenda dei due giovani scomparsi, una vicenda che preoccupa e interroga. Angosciante, sì, 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 anche perché per quanto possa valere dalle foto, sembrano ragazzi normalissimi, brava gente e quando succedono queste cose qua lasciano un po' un po' di sempre un po' di amaro in bocca secondo me, sperando che tutto si risolva per il meglio. Tornate a casa se ci state ascoltando perché i vostri genitori vi vogliono bene, le persone che vi vogliono bene vi vogliono con loro. Credo siano nei pensieri di tutti, veramente di tutti, ma non solo della zona ma di tutto il Veneto. Io vado a Venezia, vado a Padova e sento in treno sempre, sempre che i giovani ne parlano e quindi speriamo veramente che possa finire dai migliori dei modi e preghiamo tutti per loro, veramente. Angoscia e speranza, ma anche preghiera per Giulia e Filippo. A Treviso, così come in tutto il Veneto, il pensiero è per questi due giovani, è il momento degli interrogativi, anche quelli più dolorosi. Chissà dove l'ha portata, chissà a quest'ora dov'è, chissà che non l'abbia fatta del male, anche perché comunque si fidava di questa persona e uno non lo sa mai se, perché tutti dicono state attenti al vostro ultimo appuntamento, non è andata all'ultimo appuntamento, non puoi saperlo. Infatti io spero che li trovino perché non so, spero che a lei non sia successo niente perché è giovanissima, ha una vita davanti. Anche dal mio punto di vista sono un po' perplesso, cioè più verso la parte negativa, ecco. Abbiamo l'età di Giulia, giù di lì, insomma, quindi è una situazione che anche a noi giovani fa veramente molto pensare, persone che noi pensiamo essere fidate magari a volte ci sorprendono. Sicuramente quando una relazione viene chiusa lasciarla perdere, non andare avanti, basta quando una cosa si chiude. Rispetta te stessa, non tanto quello che vuole il tuo ex. E proprio poco fa si è saputo che le ricerche che sono state condotte, appunto ve l'abbiamo raccontato poco fa a Zero Branco, hanno dato esito negativo anche quelle sulle chiuse del fiume Zero, per cui domani lo spiegamento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine impegnati nelle ricerche si sposterà nell'area del Piave a Maserada e poi a Spresiano. Chiudiamo quest'ampia pagina dedicata alla scomparsa dei due ex fidanzati per parlare della tragedia di Pieve di Soligo. La procura ha deciso di non effettuare l'esame autoptico sul corpo di Anita Grigiai. La 26enne morta nel pomeriggio di martedì nel terribile incidente sul lavoro alla Boccona, azienda specializzata nella commercializzazione di surgelati. Nelle prossime ore sarà dato il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia. Le immagini delle videocamere di videosorveglianza sono state sequestrate dagli inquirenti frame che dovrebbero aver ripreso gli istanti dell'infortunio. Il macchinario rimane sotto sequestro. Secondo le indagini sarebbe stato un collega ad azionare la macchina imballatrice che la stessa vittima aveva spento senza accorgersi che dietro vi fosse qualcuno. Anila appunto il braccio rimesso in funzione avrebbe schiacciato le vertebre del collo della ragazza causandone il decesso. Il collega ancora in stato di sciocca è stato indagato per omicidio colposo. Ed ora un'altra vicenda tragica, quella della morte di Samantha Renon, aveva 16 anni. Nell'aprile del 2022 fu travolta e uccisa da un'auto. Al conducente, un 36enne di origine albanese, la patente è stata sospesa per dieci mesi. Il dolore della madre. Quello che ci fa male è sapere che la patente del Signore verrà semplicemente sospesa, nemmeno revocata, per cui non dovrà neanche rifarla, e semplicemente per dieci mesi, per cui tra dieci mesi lui riavrà la sua patente e la sua vita continuerà, mentre la nostra naturalmente è finita per sempre, perché senza di lei la nostra unica figlia sarà così per sempre. La voce, incrinata da un dolore immenso, da una ferita indelebile. Diana, mamma di Samantha Renon, la sedicenne che in sella alla sua moto è stata travolta ed uccisa da un'automobilista, parla con gli occhi lucidi, lacrime che fa fatica a trattenere. Il 36enne, di origine albanesi, che ha tagliato la strada alla figlia, ha patteggiato un anno e quattro mesi, patente sospesa per dieci mesi. Questa, dice, non è giustizia. Noi abbiamo avuto anche coppia del verbale, per cui c'è anche tutta la descrizione, ci sarebbero anche le foto del video stradale, perché c'è un video stradale, per cui inequivocabile, non c'è alcun dubbio. Lei percorreva la sua strada e la strada gli è stata tagliata, perché lui ha completamente tagliato e invaso la corsia, entrando a sinistra. Lei probabilmente non si è neanche accorta, non ha neanche avuto modo di accorgersi di niente. Era il 14 aprile del 2022, quando in un attimo, lungo questa strada, tutto è finito. Samantha ha il suo sorriso, la sua voglia di vivere, i suoi sogni, tanti ancora da realizzare. Lei, dice la mamma, riempiva tutto, impossibile colmare quel vuoto. Quello che dico io è semplicemente cercare di dare un segnale, cercare di far capire anche ai ragazzi, ai ragazzi che prenderanno la patente un domani, quella stanno prendendo adesso, che bisogna veramente stare attenti per le strade, perché non è possibile che succedano queste cose, che venga tolta la vita, una vita appena nata praticamente così, in un attimo, per un nulla alla fine. Il suo pensiero va a Giulia, la 22enne scomparsa assieme al fidanzato. La speranza è l'ultima a morire, quindi auguro veramente che vengano trovati al più presto. Sono fortunatamente in netto miglioramento le condizioni di salute dei due coniugi ricoverati ieri all'ospedale Caffoncello di Treviso dopo aver mangiato dei funghi velenosi che avevano trovato in un prato cittadino. Le cure dei sanitari hanno sortito gli effetti sperati e marito e moglie ora non sono più in pericolo di vita e dalla rianimazione sono stati trasferiti in medicina. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, proseguiamo con la cronaca. Un'organizzazione internazionale di narcotrafficanti è stata smantellata dalla Guardia di Finanza di Padova. Il capo era residente in provincia di Treviso, a Ponte di Piave. Era in grado di muovere i fiumi di droga, cocaina, eroina, hashish e marijuana la banda di narcotrafficanti individuata dalla Guardia di Finanza di Padova coordinata dalla Procura Distrettuale di Venezia. Un'indagine complessa e vecchia maniera con migliaia di chilometri di pedinamenti che ha portato in queste ore i 100 militari coinvolti all'esecuzione di 19 arresti, 14 in carcere, 5 i domiciliari e a 65 denunce eseguite tra Veneto, Germania e Albania. L'organizzazione operava principalmente in Veneto e le province più interessate sono Treviso e Venezia con due depositi che abbiamo individuato ad Eraclea e a Musile di Piave. La cocaina, ovviamente di provenienza dal Sud America entrava in Europa dall'Olanda attraverso la Germania mentre l'eroina, l'hashish e la marijuana che sono le altre sostanze che sono state sottoposte a sequestro durante l'indagine, provenivano principalmente dall'Albania. Un'indagine è partita nel gennaio 2020 con l'arresto a Padova di due albanesi, un uomo e una donna che viaggiavano con due chili di roina nascosti nel doppio fondo di un'auto. Proprio nei doppi fondi, la chiave dell'indagine, qui venivano cerate oltre alla droga telefoni cellulari albanesi dotati di Matrix, uno speciale sistema di messaggistica istantanea criptato. In Matrix i trafficanti avevano creato una stanza a cui si accedeva tramite un codice su invito dove venivano gestiti i movimenti della droga e l'invio dei soldi. Al vartice della banda, un cittadino albanese residente a Ponte di Piave è arrestato in Albania con la moglie e il figlio. In poco più di due anni, la guardia di finanza di Padova che si è avvalsa anche della collaborazione dello Scico ha sequestrato più di quattro quintali di droga, cocaina, eroina, hashish e marijuana per un valore di 32 milioni di euro. Ancora cronaca, ha urtato il fornello a gas dove stava cucinando il pranzo e di vestiti che indossava. Si sono incendiati, grave incidente domestico. Questa mattina a Biadene di Montebelluna subito soccorsa la signora che era in cucina. Una donna di 72 anni è stata trasportata con l'elicottero a Padova dove è ricoverata al reparto grandi ustionati per le gravi bruciature riportate che interessano il 70% del corpo sul posto oltre ai sanitari e anche i carabinieri, la polizia locale ed i vigili del fuoco. Un incendio è divampato nel tetto di un capannone nella zona industriale di Falzè di Nervesa della battaglia. Vediamo. Fiamme alte e fumo denso quando alle 12.30 è divampato un incendio dal tetto di un capannone in costruzione nella zona industriale di Falzè di Piave a Sernaglia della battaglia. Il rogo, secondo una prima ricostruzione, sembra essere scatturito da alcune scintille durante le fasi di isolamento del tetto con le guaine. Gli operai stavano preparando il tetto ed erano andati in pausa pranzo. Dopo 5 minuti i vicini hanno visto uscire del fumo e hanno dato l'alarme. Molto probabilmente gli operai che stavano lavorando sul tetto non si sono accorti che una scintilla era andata sull'isolante, una svista che ha successivamente scatenato le fiamme. Sarebbero stati poi gli operai delle ditte adiacenti a dare l'allarme. Nel rogo, fortunatamente, non ci sono stati feriti. In via del mercato sono giunti i tecnici dell'Arpav a causa del denso fumo creato dall'incendio visibile a centinaia di metri. Sul posto sono arrivati anche i vigi del fuoco con tre squadre e l'autogru, oltre ai carabinieri e la polizia locale. Il capannone in disuso era stato bonificato qualche anno fa e attualmente era in fase di ristrutturazione. La ditta Delta B Costruzione di Pieve di Soligo doveva inaugurarne l'apertura a fine anno. I danni sono ingenti. Utilizzava delle gabbie come trappole per catturare uccellini selvatici, attività vietata dalle norme per la protezione della fauna selvatica. Nei guai è finito un residente nel Vittoriese scoperto dai carabinieri forestali con gabbie nel giardino di casa. I militari hanno sequestrato le trappole e liberato gli uccellini. Ed ora lo sciopero indetto da CGL Will per la giornata di domani che si preannuncia una giornata difficile dalla scuola alla sanità. Non abbiamo nessun tipo di comunicazione ufficiale. D'altronde non sono nemmeno tenuti a darcela. E quindi chiaramente mi rendo conto che per le famiglie sia un disagio anche realisticamente non sapere se portare i bambini a scuola o no. Ma purtroppo questo è lo sciopero e quindi, ripeto, faccio appello almeno all'attenzione e alla sensibilità di tutti per cercare di arrecare meno danni possibili e meno disagi possibili per le famiglie. È un appello al buonsenso quello che arriva da Casugana alla vigilia di una giornata che si preannuncia difficile con lo sciopero proclamato da CGL Will. La scuola, uno dei settori più delicati così come la sanità con il direttore generale Francesco Benazzi che al momento sembra però rassicurare gli utenti all'Ulss2 a titolo cautelativo sono stati rinviati dei corsi di formazione per il personale di comparto altro fronte, quello della raccolta dei fiuti. Per ora sono garantiti quindi non abbiamo avvisagli di nessun tipo Conterina farà la sua parte da questo punto di vista anche con i propri lavoratori che come sempre sono dimostrati molto responsabili in questo tipo di attività perché poi saltare una raccolta vuol dire posticiparla magari di una settimana e le famiglie andrebbero in forte difficoltà. Scattata la precettazione per il trasporto pubblico locale saranno quindi garantite le fasce principali quelle di studenti e pendolari. Il sciopero fatto dalle 9 alle 12 è un sciopero che comunque crea dei disagi ma non assolutamente per la grande parte dell'utenza di mom. Secondo me è corretta la precettazione è corretto anche quello che ha fatto il ministro salvaguardando comunque il diritto del sciopero da parte dei lavoratori. Sono andati a scuola al liceo Duca degli Abruzzi e dopo pochi minuti sono saliti sul tetto della scuola una decina di studenti che avevano in mano alcuni fumogeni ed uno striscione che chiedeva la liberazione della Palestina immediatamente sono stati allertati i professori che hanno raggiunto i ragazzi e li hanno invitati a scendere dal tetto e rientrare a scuola sul posto è arrivata anche una volante della polizia gli studenti rischiano ora una sanzione disciplinare. Cambiamo ora decisamente argomento torna a Treviso il Natale incantato tra novità e tradizione la presentazione è oggi in comune sentiamo. Abbiamo anticipato al 2 di dicembre la grande cerimonia di accensione dell'albero proprio perché crediamo che nei momenti difficili abbiamo bisogno di aggrapparci alle emozioni e anche a quelle sensazioni a quell'ambiente che il Natale sa ricreare che ci rende anche tutti un po' più buoni e quindi abbiamo anticipato al 2 proprio perché abbiamo bisogno di vivere delle emozioni diverse rispetto alla quotidianità. Per il Natale 2023 Kasugana gioca d'anticipo e lo fa con una serie di partner pubblici e privati lunga la lista di eventi tra spettacoli itineranti luminari, installazioni 3D musica e cultura fra le novità e il coinvolgimento degli studenti delle scuole di Treviso con le esibizioni dei cori sotto la loggia dei Cavalieri. È un Natale sostenibile da un punto di vista finanziario ma sostenibile soprattutto da un punto di vista sociale. Abbiamo potuto far questo grazie al supporto di tanti amici della città di Treviso con degli sponsor che condividono il progetto ma non abbiamo voluto chiedere ulteriori sacrifici rinunce alle nostre comunità soprattutto ai bambini. Uno spettacolo non solo per i trevigiani le previsioni sono da tutto esaurito. Noi abbiamo già un tutto esaurito per Natale per Treviso non era mai successo un aumento del 15% del turismo nella città di Treviso e non siamo più appendici di Venezia e questo è molto importante per noi ma siamo prima attrazione anche per i turisti di oltreoceano. E ci sarà spazio anche per la solidarietà come il concerto dell'Immacolata organizzato a San Francesco dall'Associazione Ogni Giorno per Emma Onlus e l'invito arriva proprio dalla mamma di Emma. Sempre con Emma con Ogni Giorno per Emma grazie a tutti e spero di avere una grande un grande seguito ma so che ci sarà perché la basilica è meravigliosa. Grazie ora le notizie da Belluno e Provincia. Cambio al vertice del comando della Polizia Stradale di Belluno la nuova dirigente prima donna ad assumere tale incarico alla stradale di Belluno è la vicequestore Luciana Giorgi che accoglie il testimone lasciato da Salvatore a Dorino destinato ad altra sede. Dalla Lombardia al Piemonte poi in Umbria ultimo incarico al comando della Polstrada di Terni sempre in prima linea estremamente competente dotata di spiccate doti umane la vicequestore Luciana Giorgi è la nuova dirigente della sezione della Polstrada di Belluno la prima donna ad assumere il comando nel quartier generale di via Coldilana contrasto dei comportamenti a rischio vigilanza e soprattutto educazione stradale per portare fra i giovani un maggiore spirito critico. Ritengo sicuramente che la prevenzione sia la chiave di volta di tutta la nostra attività che è un'attività molto tecnica e considerato anche appunto l'obbligo di contenere il fenomeno infortunistico che sicuramente rappresenta la nostra mission. La vicequestore Giorgi è stata referente nel 2020 del progetto Icaro della Polizia di Stato rivolto ai giovani delle scuole che ha l'obiettivo di diffondere l'importanza del rispetto delle regole relativa alla sicurezza stradale. La nuova dirigente arriva in provincia forte dell'esperienza olimpica maturata sul campo durante Torino 2006. È stata un'esperienza che ricordo con particolare direi piacere e ho vissuto appunto quel mese un mese e mezzo durante l'Olimpia di Invernale di Torino 2006 in numerosi servizi chiaramente all'epoca ero un commissario capo e è stato come dire anche uno dei motivi per i quali poi sono stata incaricata di venire qui nelle dromidi bellunesi. Cercheremo di lavorare al meglio nonostante la carenza di organico ha detto la dirigente che è stata presentata questa mattina dal questore Francesco Zerilli con il numero uno della polizia di stato bellunese il punto sulla sicurezza in provincia. Lavoriamo nella quotidianità per garantire chiaramente la situazione dal punto di vista dell'ordine della sicurezza pubblica direi che non ci sono situazioni critiche da segnalare. Resta alta l'attenzione sul fenomeno delle baby gang si lavora sulla prevenzione. Comunque è un qualcosa che indubbiamente teniamo presente perché certamente anche la nostra provincia non è esente da questo tipo di situazione. E da vicendamento anche al comando della tenenza della guardia di finanza di Euronzo di Catore il luogo tenente Stefani raggiunta l'età della pensione ha lasciato il comando che è stato assunto ad Antonio Tedesco che arriva dal nucleo di polizia economico finanziaria di Treviso il neocomandante a 45 anni e di origini campane a lui il comandante provinciale delle Fiamme Gialle Dario Guarino ha dato il benvenuto formulando i migliori auspici per l'importante impegno professionale al quale è stato chiamato. È un momento storico così il sindaco di Belluno De Pellegrin parlando dei lavori programmati per l'auditorium perché grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche si va nella direzione dell'inclusione di tutti dando ulteriore valore all'operazione. Auditorium di Piazza Duomo riprendono i lavori l'intervento del valore complessivo di 1.300.000 euro coinvolgerà facciate esterne aree archeologiche al piano terra e sala auditorium sarà lo step conclusivo necessario a dare completamento al restauro e recupero conservativo dell'immobile i primi interventi furono ultimati ancora nel 2016 poi per mancante di fondi avevano subito una battuta d'arresto. Abbiamo messo assieme tre progetti importanti un anno di lavoro insomma daremo a questa piazza un ulteriore modo per venirla a visitare visitare questo auditorium l'ex palazzo dei vescovi in questa che è una città assolutamente storica insomma piano piano riusciamo a chiudere tutti i progetti del PNRR questi erano tre progetti importanti mi pare che siamo ovviamente in linea con quello che abbiamo stabilito col ministero Oggi grazie ai fondi del PNRR i lavori potranno essere portati a termine in particolare il cantiere consentirà la riapertura al pubblico della sala auditorium pensata per concerti convegni e incontri pubblici di varia natura l'abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la realizzazione di un ascensore interno alla struttura la sistemazione dell'area archeologica e la riqualificazione delle facciate esterne i tempi di esecuzione sono certi in quanto legati alle tempistiche del PNRR che impone il pagamento di almeno il 30% dell'intervento entro il 30 settembre del 2024 l'intervento saranno di tre entità uno che riguarderà il pian terreno quindi la zona archeologica una le facciate ma più importante è la sala della musica dove poi sia la scuola Miari ma tante associazioni potranno ritornare a fare attività lì e portare anche i propri concerti quindi questo credo che per la città sia una grande opportunità ed è tutto da Treviso Belluno per questa sera grazie per essere stati con noi vi lascio come sempre alle previsioni del tempo il meteo arrivederci Busti, tutori e protesi di arto personalizzati Ortopedia e sanitaria Lolato Atreviso e Montebelluna Lolato soluzioni per star bene ben trovati al meteo una veloce perturbazione transita sull'Italia ma non coinvolgerà direttamente il nostro territorio dove il tempo si manterrà buono vediamo in dettaglio di venerdì 17 novembre sul Veneto avremo un ampio soleggiamento il cielo sarà sereno o poco nuvoloso locali nevicate in montagna fino a 1600-1800 metri sulle prealpi e intorno ai 1500-1700 metri sulle Dolomiti qualche addensamento in pianura di notte poi alcune nebbie temperature con andamento irregolare minime sui 2-8 gradi massime invece comprese tra 12 e 15 gradi all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia da prima avremo tanto sole a seguire e dunque dal pomeriggio aumento della nuvolosità ma in genere senza fenomeni associati temperature minime fra 2 e 9 gradi massime sui 12-15 gradi infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove non mancherà qualche nevicata sui confini a nord condizioni migliori altrove con più sole temperature minime intorno a 1-2 gradi massime sui 10-12 all'incirca dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto grazie per l'attenzione arrivederci entra nel mondo l'olato da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita centro del piede con servizi di podologia laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura Grazie a tutti Grazie a tutti.